9 opportunità dal comune di Pescara in favore delle persone bisognose. 94 tirocidi di inclusione sociale per coloro che beneficiano dell'assegno di inclusione per tutte le famiglie che hanno un'ISE non superiore ai 9.360 euro e sono presi in carico dei servizi sociali. Si tratta di percorsi di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro in diversi ambiti, dalla manutenzione e cura del verde pubblico alla manutenzione, facchinaggio e attività di inventario alla piccola manutenzione di edifici scolastici comunali accoglienze e supporto in organizzazione di eventi e iniziative all'ex aurum a processi di informatizzazione, gestione flusso documentale accoglienze e derogazione servizi alla cittadinanza alla manutenzione, pulizia e decoro urbano in collaborazione quest'ultimo con l'ambiente SPA fino alla manutenzione, pulizia e cura delle aree parcheggio, impianti sportivi parchi, cittadini e cimiteri in collaborazione con Pescara Multiservice. D'una parte un aiuto concreto nei confronti di questi cittadini che dovranno avere, ricordiamo, un'isei sotto 9.300 euro oppure dovranno già avere il beneficio dell'assegno di inclusione dall'altra parte raggiungiamo un obiettivo perché diremo a queste persone 500 euro quindi sono anche delle risorse concrete per aiutare questi cittadini e avviarli anche nel mondo del lavoro quindi mediante questa attività di formazione dall'altra parte raggiungiamo degli obiettivi di utilità diciamo collettivo nel senso che questi cittadini verranno impiegati nella nostra municipalizzata ambiente quindi per attività di pulizia saranno circa 18 oppure nelle attività di manutenzione per esempio all'interno della società Multiservice oppure andranno a svolgere i servizi anche all'interno delle attività scolastiche oppure all'interno dell'Aurum quindi sono delle iniziative di cui tutti i cittadini andranno a beneficiare ricordiamo sono soldi, sono importi, sono risorse nazionali che intercettiamo per far sì che raggiungiamo l'obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e dall'altra parte concretamente avvantaggi tutta la cittadinanza pescaresi Pescara è sempre una città accogliente è aperta soprattutto alle novità noi diamo l'opportunità a coloro che usufruivano del reddito di cittadinanza che oggi non l'hanno più di poter lavorare per l'amministrazione comunale e per la città di Pescara con un reddito di 500 euro al mese per sei mesi che è anche un'attività formativa di lavoro che permetterà di ampliare le proprie conoscenze